Veri beni Demofilo, morte 386 circa, in sentenze dice Veri beni sono soltanto quelli dell'ingegno che puoi comunicare agli altri senza diminuirli, che anzi aumentano dividendoli. Ma un così ricco tesoro non si può conquistare con la pigrizia. Commento Il vero bene è la crescita coscienziale, l'unica che emancipa dalla condizione umana.